Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo ancora una volta di Matteo Bassetti, l'infettivologo genovese del San Martino, e commenta l'abolizione dell'obbligo delle mascherine all'aperto deciso dal governo come un ottimo segnale, dice, in questo momento non servono più. Si è trattato, dice, di un provvedimento di facciata deciso quando è arrivata Omicron. Quando è arrivata Omicron il governo ha deciso di mettere le mascherine obbligatorie anche all'aperto, ma è stata una cosa più teatrale che pratica. Dice, lo stop oggi è un ottimo segnale, la situazione è migliorata e possiamo dirlo. Le mascherine all'aperto sono servite poco e in generale servono quando ci sono delle particolari condizioni di assembramento. Una misura altamente cosmetica, infatti il provvedimento è stato preso quando è arrivata Omicron ed è stato di facciata e non di rilevanza. È un primo passo sulla strada per levare la mascherina al chiuso e per chi ha visto i miei video precedenti oggi si parla proprio della data per togliere le mascherine al chiuso che potrebbe coincidere con quella della fine dell'emergenza sanitaria in Italia il 31 di marzo. Questo che vi ho raccontato lo dice Matteo Bassetti all'ADN Cronos Salute, un'agenzia di stampa, e commenta proprio alla fine dell'obbligo della mascherina all'aperto che inizia il prossimo venerdì, come annunciato da Andrea Costa, sottosegretario alla salute. Anche la possibilità, dice, che non venga prorogato lo stato di emergenza oltre il 31 di marzo è un'altra misura di buonsenso, dice. Pian piano si sta usando il buonsenso, mi fa intendere anche nel governo, ma serve un'accelerazione anche su altri limiti come quello alla capienza degli stadi e fermare questa corsa ai tamponi. Ma Bassetti dovrebbe sapere, o almeno, che il governo vuole fare tutto a rallentatore perché sa che manca la terza dose di vaccino a un bel po' di milioni di italiani e pertanto dice se noi andiamo ad abolire l'obbligo vaccinale per i 50 anni, andiamo ad abolire il Green Pass, il Green Pass base, il Green Pass rafforzato, se aboliamo tutto, molto probabilmente quegli italiani che devono fare ancora la terza dose non la vanno a fare. Allora lasciamo tutto aspettando che si vadano a vaccinare. Poi quando saranno vaccinati 49-50 milioni di italiani, che sono le previsioni per chi deve fare la terza dose, dovrebbero essere circa 49 milioni in totale quelli che devono fare la terza dose, tra quelli che l'hanno fatta e quelli che non l'hanno ancora fatta, vedrete che quando si arriverà, se si arriverà a questi 49 milioni, allora lì cancelleranno tutto perché sulla quarta dose non esiste nessuno che abbia parlato di quarta dose realmente tra le autorità sanitarie, si pensa che dal prossimo anno si farà in maniera opzionale per chi vuole un vaccino stagionale come si fa ogni anno nella stagione fredda per altre cose. Pertanto lui dice bisogna accelerare ma il governo non vuole accelerare proprio per questo motivo che vi ho raccontato, perché cancellando tutto poi gli italiani dico vabbè allora non c'è più niente, basta dovevo fare la terza dose e lasciamo perdere. Ecco, questa è una teoria che c'è solo in Italia, perché negli altri paesi realmente dall'oggi al domani hanno deciso di togliere le restrizioni senza preoccuparsi adesso se togliamo le restrizioni poi nessuno va a fare la terza dose, le hanno tolte e punto e basta, ha detto adesso bisogna convivere con questo covid che da pandemia si trasformerà in endemia. Ancora però manca l'ufficialità, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità ad oggi non ha decretato la fine della pandemia, perché quando è iniziata ha decretato l'inizio, ma realmente oggi non c'è una dichiarazione ufficiale che dica che la pandemia è finita e che il covid si è trasformato in qualcosa di endemico, in una malattia comune. Pertanto sono sicuro che il governo continuerà con questo green pass e con questo obbligo vaccinale fino a quando non ci sarà una dichiarazione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, e fino a quando le terze dosi non saranno arrivate al completamento. Vedrete che non mi sbaglio, vedrete che ho ragione. Comunque questo è quello che racconta oggi Bassetti perché siamo abituati che ogni giorno dà una sua opinione, una sua profezia sulla situazione covid e non solo. Ma intanto Ricciardi dice, io menagramo, Ricciardi è il consulente di speranza, dice no, solo dati scientifici per evitare il peggio. Perché Ricciardi come Galli fa parte di quei medici che vedono le cose sulla strada del catastrofico, diciamo che non sono quelli con grande positività, sono quelli che sono sempre più pessimisti degli altri, forse perché vogliono comunque avere i piedi per terra, vogliono essere sicuri prima di esprimere un'opinione positiva, o semplicemente, come diceva Senaldi, Pietro Senaldi, forse vogliono prolungare lo stato di emergenza e le restrizioni il più possibile in modo che alle prossime elezioni Lega e Fratelli d'Italia perdano voti di persone che vanno in un partito magari Novax, perché se noi togliamo tutte le restrizioni non nascerà mai un partito Novax, mentre se arriviamo alle prossime elezioni amministrative ancora con le restrizioni magari si formerà un partito che andrà a togliere voti a Lega e Fratelli d'Italia così da favorire il centro-sinistra. è un'ipotesi che non è neanche troppo cervellotica e fantasiosa, abbiamo visto che la sinistra le pensa tutte per fermare il centro-destra Meloni, Salvini, Berlusconi, quindi perché no? Perché non potrebbe essere, non potrebbe aver ragione Senaldi che dice il Green Pass lo utilizza la sinistra per fermare Salvini e Meloni, realmente potrebbe essere, è abbastanza probabile che sia anche parte questo della strategia anti-centro-destra. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video.